Ciao a tutti ragazzi e oggi in questo nuovissimo video, oggi vi faccio vedere qui che ho recuperato questo nuovo film Robin Hood con Russell Clough e Cate Blanchett, questa è la director's cut, due versioni, c'è la director's cut con 16 minuti inediti, più la versione cinematografica, più i diari del regista, più oltre un'ora di contenuti speciali, ecco qua come potete vedere ci sono parecchie cose aggiuntive rispetto al Broadway normale, comunque questa è la copertina qui abbiamo il laterale Robin Hood, qui abbiamo il retro, un po' di trama, un'immagine di Robin Hood, due versioni, director's cut, 16 minuti mai visti al cinema e la versione cinematografica, ecco qua, andiamo a vedere l'interno del disco, ecco qua le due versioni, con uno il film e l'altro i bonus disc con i contenuti speciali, e niente ragazzi, se ti vi piace, commentate, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti belli!